Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi, come avrete detto dal titolo, se non l'ho scritto ve lo dico ora Siccome in passato aveva acquistato sia il Bucky Protocol che il Sigma Protocol di Deni Enrico Da un po' che lo sto provando, diversi mesi Oggi andiamo a registrare l'allenamento del Sigma Protocol della quarta settimana Proprio dove c'è la settimana Sigma Ed è il terzo giorno nello specifico Non vi prometto grandi numeri perché sono abbastanza stanco Però vediamo cosa riusciamo a fare Non volevo nemmeno venire oggi a spostare l'allenamento Ma ho detto vado Perché mai mollare un allenamento Piuttosto allenarsi in modo più leggero che non farlo Secondo la mia teoria Andiamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti